Ma no, capisci quello del genere, vedi, vedi la mia peccatina, guarda, non c'è proprio Mamma? 1413, sì, 2700, 10.000, va bene, no, no, la Fiat da 2930 chiude a 3053 Scusi signorina, c'è qualche informazione? Un momento Ho saputo che ci sarà un aumento di capitale nella fonsider, me ne compri per ora 50.000 almeno Vabbè, vabbè A 20, compro 20.000 al finito Io te le do 5.000 Sì, sì, io 5.000 Sì, io Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Io, 5.000 Finito, vabbè A 20, compro 30.000 fincine Vanno 4-0 Sì, vanno 4-0 30, 6, 2.000 Ma che cavolo fai? C'è un moscone. Vado, sei vero! 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 Ho fatto un milione. Vado, sei vero! Vado, sei vero! Eccomi! Fa' questa volta. Vado, sei vero! Mamma! Ah! Com'è che sei qui? Mario! Che dici, compriamo? Ma... Io compro. Ci sa niente. Ho comprato le finside a venti. Guardi un po' quanto valgono. Ne ho duemila. Le tenga, fanno denaro. Tu non mi conosci, ma io sì. Come stai? Devo partecipare una dolorosa notizia. Stamane è deceduto in seguito all'impatto il collega Vicerotti sopeggio. L'emozione del momento mi impedisce di ricordarlo con una roba adatta. vi prego con tanto di rispettare un minuto di silenzio. Questo è un baobab. L'Africa non è niente è stata sempre qui. Ma è stupenda. Guarda qui l'estate. Ma di sempre c'è sempre il Kenya ha tutto la giungla la neve la savana. Che cosa non ho capito? Dal becco duro che gli screpolano la pelle per mangiare i palettini. Mamma mia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.